Uno screening è riservato ai residenti nel comune di Terre Roveresche. 200 abitanti circa potranno sottoporsi ai test sierologici per la diagnosi del Covid-19. Ad annunciarlo è stato il sindaco Antonio Sebastianelli durante una diretta Facebook. L'obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, è quello di verificare quanto e in che modo il coronavirus sia circolato nella comunità. Terre Roveresche è il primo comune marchigiano ad essere partito con questa iniziativa su base volontaria utilizzando il metodo chiamato quantitativo, cioè mediante un prelievo in vena. Lo studio epidemiologico è stato organizzato con la Fondazione Articolo 32 e al momento, dagli esiti delle 155 persone già sottoposte al test, è emerso che il 12% di esse è venuto a contatto con il virus e ha sviluppato anticorpi. Sono state riscontrate immunoglobuline di classe IgM e IgG. La differenza è che le IgM sono quelle che vengono prodotte dal nostro corpo, dalle nostre cellule, dai nostri linfociti, come difesa ai patogeni che arrivano, quindi anche il virus, anche il coronavirus, e vengono prodotte nella prima fase. Quindi sono i monoglobuline particolari, vengono prodotte all'inizio di qualsiasi infezione o di origine batterica, in questo caso di origine virale. Poi, piano piano, queste lasciano lo spazio alle IgG, che sono le immunoglobuline che vengono prodotte verso la fine quando uno ha quasi sconfitto il virus e non è più contagioso, eccetera. Nel primo caso le persone si sono messe in quarantena perché ancora potenzialmente contagiose dopo un primo tampone. Dovranno farne altri due a distanza di 24 ore per verificarne la negatività. In questa prima fase abbiamo individuato le categorie che sono maggiormente esposte con il pubblico e quindi chi ha un certo tipo di attività piuttosto che altro, le forze dell'ordine, i dipendenti comunali, i volontari che comunque sono stati impegnati e sono tuttora impegnati nella consegna di medicinali, mascherine per l'aiuto della popolazione. Contattate voi queste persone oppure c'è un modo per chiedere informazioni? Allora, noi quelle delle categorie, anche perché siamo un comune piccolo quindi riusciamo, conosciamo, insomma, non dico tutti ma quasi, contattiamo noi. Negli altri casi però se il cittadino vuole può scrivere a un'email del comune che il futuro abita qui, chiocciolacomune.terreroveresche.piu.it dove può chiedere delle informazioni. Informazioni e anche esprimere la possibilità, qualora ce ne fosse la possibilità, essere sottoposto al test perché comunque il test sierologico dà un'idea di come questo virus è circolato all'interno della popolazione perché chiaramente il test è fatto agli asintomatici. E di conseguenza poi adottare dei provvedimenti adeguati. Esatto, capire come fare, come impostare la fase che viviamo adesso ma anche la ripartenza, ecco. Grazie. Grazie.